Un Presidente, c'è solo un Presidente, un Presidente, c'è solo un Presidente, un Presidente, c'è solo un Presidente. Grazie a me, almeno sul calcio, Presidente. Non è al Milan, Presidente, almeno sul calcio. Un pensiero di... Io spero che venga al Monzo. Al Milan è una minestà riscaldata, Presidente. Pensate che quando avevo 18 anni, facevo sport, ero stato campione italiano, universitario, dai 100 metri, gli altri sport. E quando, per esempio, si andava al mare, allora non c'erano tutte le palestre, per cui non c'erano tutti che si allenavano a farsi i muscoli. I muscoli li avevano solo, ti faceva sport agonistico, no? E io, quando c'era al mare, mi spogliavo come tutti gli altri, mia mamma mi guardava compiaciuta e diceva il milanese che era la sua prima lingua. Però il Messilio era sempre il più sebel della spiaggia. E nessuno mi chiedeva una fotografia. Adesso, che sono vecchio, pelato, brutto e grasso, mi fermano a queste strade e non mi lasciano arrivare in orario, arrivare in manifestazioni, perché c'è sempre, ci sono gruppi di persone che vogliono fare dei selfie. E quindi adesso troppe fotografie e invece noi avremo bisogno di più vuoti e meno fotografie.